Buongiorno a tutti da Milano per la prima edizione del telegiornale regionale RAI della Lombardia. Dunque una misura anticrisi che può servire da modello per tutta l'Italia. L'accordo da un miliardo e mezzo siglato ieri fra il presidente Formegoni e i sindacati consentirà anche ai lavoratori precari di accedere alla cassa integrazione e ad assegni di mobilità. Unanime il giudizio positivo. Una chiave elettronica contro spacciatori e abusivi è la strategia degli abitanti delle case popolari di un quartiere di Milano. Il badge è costato 40 euro a famiglia.